Il dovere coniugale? Lei non ci sta, si tratta di una mogliettina francese che ha perso la causa in terra di Franza, perché in terra di Franza i giudici hanno detto che lei lo deve compiere il dovere coniugale in terra di Franza. E allora lei non ci sta perché dice che il dovere coniugale è contro la dignità umana, per cui intende fare ricorso alla Corte Europea di Giustizia contro la Franza, perché i giudici francesi hanno detto che lei la deve dare a suo marito. Cosa volete che vi dica? Io so soltanto che Paolo, Saul di Tarso, l'apostolo delle genti, diceva, scriveva, meglio sposarsi che ardere. Sì, sì, proprio così. L'apostolo delle genti, Paolo di Tarso, scriveva, meglio sposarsi piuttosto che ardere. Cioè, se uno è ardente, ardente di passione e d'amore, si sposa, si sposa e poi moglie e marito fanno quelle cose là, quelle cose là, fanno quelle cose là. E ma, ma, sta mogliettina, si vede che non lo conosce l'apostolo delle genti, l'apostolo delle genti, Paolo di Tarso. La religione cristiana si chiama religione paolino, paolino-cristiana, perché Gesù è morto in croce. E poi il messaggio di Gesù l'ha diffuso Saul di Tarso, Paolo, Paolo di Tarso. L'ha diffuso in tutto l'impero romano, Paolo di Tarso, il messaggio di Gesù. E Paolo di Tarso diceva, piuttosto che ardere, è meglio sposarsi e ci si sposa per quelle cose lì. Io non lo so che cosa vuole questa mogliettina, perché non vuole più dargliela al marito. Se non vuole più dargliela al marito, c'è il divorzio. Fa il divorzio, no? Dov'è il problema? Ma dov'è il problema? Ma perché rivolgersi? Già i giudici francesi, che sono molto liberali, le hanno dato torto. Adesso lei dice che si rivolge alla Corte Europea di Giustizia contro la Franza. Ma dov'è il problema? Io sono sicuro che alla Corte Europea di Giustizia gli diranno, ma divorzia, no? Dov'è? C'è il divorzio. Se non vuoi più dargliela al marito, fai il divorzio. Tutto qua. Se poi il divorzio che ti viene senz'altro concesso, al divorzio non riesci a spuntare il mantenimento dal marito, è semplice. Ma vai a lavorare come commessa al supermercato. Ma dov'è il problema? Fai il divorzio, fai. Va bene? Voi che dite, amici miei? Che dite voi, amici? Paolo di Tarso, l'apostolo delle genti, diceva piuttosto che ardere, è meglio sposarsi. Ci si sposa per questi motivi, ci si sposa. È reciproca. La questione è reciproca. Non solo l'uomo arde, anche la donna arde. Se uno non arde più dopo che si è sposato e non vuole più compiere il dovere coniugale, ma c'è il divorzio. C'è il divorzio, terra di Franza poi. Va bene? Devo dire che di questa bella notiziona, mi ha informato l'amico Alessandro Arcangeli, che mi informa sempre su queste belle situazioni. Per cui ad Alessandro Arcangeli e a tutti voi, tanti cari saluti dalla stipe del serpente. Ok, ok, ok.